Buonasera, buonasera Serena, la D ovviamente è protagonista, oggi non abbiamo le grafiche ma possiamo ricordare agli amici in ascolto che è stata una giornata importante la quindicesima perché la San Benedettese è stata bloccata calamorosamente in casa dal modesto atletico Ascoli. Ne ha approfittato il Campobasso che purtroppo ha battuto il Notaresco ma soprattutto le altre tre abruzzesi che sognano la promozione in Serie C, il Paro dell'Avezzano che ha battuto 1-0 il Tivoli, il Chieti che ha battuto all'ultimo respiro il Real Monterotondo 2-1 e l'Aquila che ha vinto sul campo dell'United Riccione. Dell'Aquila dirò anche il marcatore perché è l'unica squadra di cui non disponiamo del servizio, ha segnato Banegas al 27esimo su calcio di rigore ma soprattutto l'Aquila ha ingaggiato l'ex difensore del Pineto Di Filippo che si è svincolato e firmerà un contratto di sei mesi col club rosso e blu. Gli altri risultati fanno Soro a 0-0, Fossombron di Roma City 0-0, San Benedettese e Ascoli come dicevo 2-2 e Termoli Matese 0-0. Il Senigalli ha battuto 3-0 in trasferta Lavasto-Girardi. La classifica è molto molto importante perché vede Campobasso e Samba a quota 30 ma l'Avezzano distante un sospiro due punti dalla coppia di testa. E anche Chieti e l'Aquila, Paiate a quota 27 sono a 3, più staccato il notarisco a quota 23. Ma ora è il momento di vedere gol e servizi, partiamo subito dall'Avezzano secondo in classifica che il nostro Orsini ci racconta il successo ottenuto contro il Tivoli in casa allo Stadio De Marsi. L'Avezzano batte il Tivoli di misura e consolida la sua posizione ai vertici della classifica del G1.